a fine mese il palalido di Piazza Stuparic sarà pronto il nuovo palazzetto polifunzionale di Milano a giugno ospiterà la Volleyball Nations League. Con la presentazione delle liste è partita la campagna elettorale in vista delle consultazioni per rinnovare il Parlamento Europeo del 26 maggio. Nella circostrizione nord-ovest presentate sedici liste, tre sono state ricusate. Mentre sta terminando la messa in cena, Domini con il rito della lavanda dei piedi, sempre in Duomo stamattina l'arcivescovo di Milano, Monsignor Delpini, ha presieduto la messa crismale. A San Gallo, città storica del nord-est della Svizzera, fino all'otto settembre, è in corso una mostra dedicata a un grande pittore italiano dal titolo Liga Bue, il Van Gogh Svizzero. Buonasera dal TGN, benvenuti a questa edizione del nostro notiziario. L'avete sentito dai titoli del sommario. In apertura il nuovo Palalido perché si concluderanno a fine mese i lavori di ristrutturazione del Palalido di Milano, il nuovo palazzetto polifunzionale di Piazza Stuf Paris aprirà le porte per la prima competizione nel mese di giugno, i giorni 21, 22 e 23, in occasione della Volleyboy Nations League. A raccontare i dettagli dell'impianto sportivo che tornerà a disposizione dei milanesi dopo anni di lavori e stop a causa dell'amiante per i problemi delle aziende che avevano vinto l'appalto è stata l'assessora allo sport del comune di Milano, Roberta Guaineri, nel corso di un sopralluogo con la stampa e della presidente di Milano Sport, Chiara Bisconti. Le sentiamo. Ci siamo, è stato un percorso lungo e sofferto ma siamo contenti, finalmente i milanesi e non solo i milanesi avranno la possibilità di vivere lo sport in centro a Milano e quindi siamo molto contenti di questo, ci sono tantissime richieste per l'utilizzo, sarà prevalentemente nei primi tempi un utilizzo sportivo e poi con la prossima stagione vedremo anche di avere un utilizzo più ludico, di intrattenimento. Speriamo di fare l'inaugurazione intorno a metà giugno, stiamo un attimo concordando le date con il presidente Malagò, il sindaco Sala e poi inizieremo con European Nation Volley, un campionato italiano nazionale di pallavolo importante per la città, si terranno delle partite qui e sarà diffuso in tutta la città pallavolo e beach volley. Poco manca, ci siamo, finalmente il pallavolo viene restituito alla città. Eh sì, è abbastanza emozionante rivederlo che torna, torna alla città, ospita sport di tutti i tipi quindi è pensato per essere polifunzionale ed è pensato per essere anche il luogo di utilizzo per concerti, per manifestazioni è davvero la polifunzionalità, la sua caratteristica, come sempre stato, eh? Come sempre stato in passato. E con la presentazione delle liste è partita la campagna elettorale in vista delle elezioni per rinnovare il Parlamento europeo. Vediamo il servizio. è partita la corsa verso le elezioni del 26 maggio per rinnovare il Parlamento europeo. Con la scadenza del termine ieri sera per la presentazione delle liste nell'ufficio della Corte d'Appello la campagna elettorale è di fatto aperta. Alla fine le liste depositate sono state 19 ma tre sono state ricusate perché non regolari. Sono i gile arancioni, il movimento politico pensiero e azione popolo delle partite IVA e del parlamentare indipendente. Quelle ammesse finora sono quindi 16. Tra le new entry dell'ultima ora le candidature di Giussi Versace per Forza Italia e del critico d'arte Filippo D'Averio per più Europa. Per il resto i nomi dei candidati erano già tutti noti. L'ex sindaco Giuliano Pisapia è il capolista per il Partito Democratico seguito da Irene Tinagli, Patrizia Toia, Pier Francesco Maiorino e Brando Benifei. Il centrodestra candida come capolista tutti i rispettivi leader Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Tra i partiti che ieri hanno depositato le liste anche quelli di estrema destra, capolista di Forza Nuova in tutte le circoscrizioni, il leader storico e segretario del partito Roberto Fiore. Per Casa Pound invece capolista il segretario Simone Di Stefano. La lista del Movimento 5 Stelle è guidata da Maria Angela Danzi. Avrebbero voluto assaltare il monopolio di Bergamo ma sono stati fermati e è fallito un tentativo di furto al monopolio di Stato organizzato nella notte. La banda ha utilizzato un furgone per sfondare due cancellate del monopolio agendo poco dopo la mezzanotte, però facendo scattare l'allarme. Così sul posto sono arrivate le volanti della polizia, i carabinieri non sono queste le immagini, grazie e la sorveglianza italiana, la banca ha mollato il colpo dandosi alla fuga, la banda ha cerchiato, ha mollato il colpo dandosi alla fuga e abbandonando il camioncino Ariete. Potrebbe trattarsi della stessa banda che ha già colpito in Lombardia durante le scorse settimane. Possono partire le immagini perché è stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione il maestro di 64 anni imputato a Milano per una serie di maltrattamenti tra cui schiaffi, spintoni e rimproveri gratuiti nei confronti di 18 bimbi di età compresa tra i due e cinque anni di una scuola per l'infanzia di Pero nel milanese. Lo ha deciso il giudice per l'udienza preliminare Anna Calabi al termine del processo con rito abbreviato. L'insegnante che si è dimesso era finito agli arresti domiciliari lo scorso novembre. Il giudice ha accolto in pieno la richiesta del PM Christian Barilli e ha disposto il versamento di una provisionale di 7 mila euro per ciascuno dei venti bimbi maltrattati. Il maestro che ancora agli arresti domiciliari rappresenta la lettura della sentenza e ha lasciato l'aula senza fare alcun commento. I genitori dei bimbi invece hanno espresso la loro soddisfazione dicendo che per loro è una vittoria e che sperano che quanto accaduto ai loro figli non capiti più a nessun bambino perché negli asili devono capitare solo cose belle. Incidente all'incrocio tra Viale Marche e Viale Zara nella tarda mattinata di oggi un Audi A3 si è ribaltata dopo lo schianto con un furgone. In un primo momento le condizioni dei feriti un anziano di 81 anni, una donna di 83, una 45enne e i bambini di 4, 9 e 13 anni sembravano gravi tanto che la centrale operativa del 118 ha mandato sul posto due ambulanze e un'automedica. Fortunatamente però non è accaduto nulla di grave nel senso che i feriti sono stati estratti dai vigi del fuoco, i due anziani sono stati trasportati in codice giallo al policlinico mentre le altre quattro persone hanno rifiutato le cure mediche. Il 18 aprile 2002 a Milano un aero da turismo si schiantò contro il grattacielo Pirelli, le due avvocatesse di regione Lombardia che persero la vita con il pilota del velivolo sono state ricordate oggi dal presidente Attilio Fontana. Il servizio. 17 anni fa lo schianto di un aereo da turismo contro il Pirellone che costò la vita da Alessandra Santonocito e Anna Maria Rapetti, due avvocatesse che lavoravano per la regione Lombardia e al pilota Luigi Fasulo. Il presidente di regione Lombardia Attilio Fontana e alcuni rappresentanti della giunta oggi hanno ricordato il triste episodio. L'aereo, un Rockwell Commander 112 ITC, era partito dall'aeroporto di Locarno ed era diretto a Linate dove avrebbe dovuto fare uno scalo per poi rientrare a Locarno. Il piano di volo prevedeva due possibili rotte, Locarno saranno torre della Telecom di Rozzano-Rogoredo-Linate oppure Locarno-Lago Maggiore-Varese-Milano-Linate. Alle 17.42 il velivolo segnalò un'anomalia al carrello alla torre di controllo di Locarno e Linate. I tecnici ordinarono al pilota di imboccare l'anello di attesa ATA percorso a forma di ellisse che si sviluppa lungo la periferia della città. L'aereo però non è mai arrivato a Linate perché si schiantò contro il grattacielo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia. Negli anni passati le due avvocatesse decedute erano state ricordate come due giovani donne piene di vita e di speranza, professionista e eccellenti, colleghe leali ed era stato aggiunto che sul dolore è germogliata la testimonianza di un modello di dedizione al lavoro e di servizio ai cittadini. Ancora cronaca, 11 auto devastate dalle fiamme in quattro episodi diversi stanotte, che è stata una notte di fuoco a Milano e l'Interland con carabinieri vigili del fuoco e sono stati chiamati a fare gli straordinari. Quattro auto sono andate distrutte in un'autofficina di Settimo Milanese, altre quattro in un parcheggio a Buccinasco, sempre in provincia di Milano. Poi è stata la volta di una Nissan X-Trail rubata ad Abbiategrasso. Infine altre due auto sono state distrutte da un incendio in via Achille-Feraboli, zona Gratosoglio, a Milano. Milano e Torino sono in testa alla classifica delle città italiane che nel 2018 hanno superato i limiti giornalieri delle polveri sottili per le concentrazioni PM10. La maglia nera va al capoluogo piemontese che nel 2018 svetta il primo posto della classifica con 89 giorni di sforamento. Il superamento dei limiti giornalieri non dovrebbe andare oltre i 35 giorni all'anno. Al secondo posto si piazza Milano con 79 giorni, poi Venezia 63 giorni, Napoli 40 giorni, Cagliari 49 giorni. L'Italia per il continuo superamento dei limiti normativi di PM10 è stata deferita alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per non avere preso misure adeguate per contrastare l'inquinamento dell'aria. Lo rileva il rapporto mobilitaria 2019 realizzato da Kyoto Club, Istituto Atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche in collaborazione con Opmus Isford su 14 città e aree metropolitane italiane nel periodo che va dal 2017 al 2018, cioè negli ultimi due anni. Uno spacciatore nigeriano di 33 anni è stato arrestato in stazione centrale a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. A bloccarlo sono stati due poliziotti in borghese che avevano visto offrire qualcosa ai passanti e ai quali lo stesso spacciatore ha cercato di vendere loro dell'hashish. Quando ha capito che quei due erano proprio agenti di polizia il pus era messo la droga in bocca cercando di ingoiarla a 14 grammi e si è poi opposto con violenza al controllo ferendo anche i poliziotti. Per lui però nessuna via di scampo e quindi è stato arrestato. La stessa sorte è toccata anche a un altro cittadino africano un algerino di 24 anni arrestato per furto. Mentre sta per terminare la messa in cena domini con il rito della lavanda dei piedi sempre in Duomo stamattina l'arcivescovo di Milano Monsignor Mario Delpini ha presieduto con la presenza del cardinale Angelo Scola la messa crismale concelebrata da circa 900 preti ambrosiani. Sentiamo Anna Maria Braccini. Chi guarisce l'umanità ferita la missione della chiesa nella comunione tritintaria è un'omelia profonda di taglio spirituale quella che l'arcivescovo di Milano pronuncia in un Duomo dove concelebrano oltre 900 sacerdoti per la messa crismale del giovedì santo che introduce i riti del triduo pasquale. Celebrazione eucaristica la messa crismale con la benedizione del sacro crisma e degli oli degli infermi e dei catecumeni. Momento da sempre importante per riflettere con il clero e per il clero guardando oltre a tutti i battezzati e allora richiama quello appunto della comprensione della trinità non un mistero incomprensibile sottolinea Delpini ma qualcosa che lega per sempre l'umanità ed è fondamento nella comunione inclusiva di ogni differenza e di ogni alterità ed è proprio questa comunione trinitaria che deve ispirare la vita e il ministero sacerdotale ma anche l'esistenza quotidiana di tutti i giorni. A tutti rivolgo l'invito a vivere dentro la dimensione trinitaria anche il servizio di corresponsabilità nelle comunità cristiane. Il riferimento è appunto all'umanità ferita che forse non è più nemmeno capace di credere ma che trova nella speranza di chi compie le opere di Dio, un aiuto e un sostegno. In particolare in questo cambio d'epoca che mostra in modo forte le sue trasformazioni anche nei mondi della sofferenza e della cura delle strutture ospedaliere e dell'assistenza ai malati sentiamo il bisogno di rinnovare le forme della nostra presenza cristiana. L'invito è a comprendere il cambiamento d'epoca e esserne all'interno con coraggio con forza dando appunto speranza. A San Gallo città del nord est della Svizzera fino all'8 settembre è in corso la mostra Liga Bue il Van Gogh Svizzero. In servizio. Un piccolo giallo riguarda il mondo dell'arte. Antonio Liga Bue, pittore dalle immagini coloratissime tanto da essere paragonato a Van Gogh, è conteso tra Italia e Svizzera. L'artista, di chiare origini italiane, nacque nel 1899 e visse per vent'anni a San Gallo, nel nord est della Confederazione Elvetica, ma non ne ottenne mai la cittadinanza. E così tornò, anche perché non integrato a causa dei propri disturbi psichiatrici, nel nostro paese, a Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia, dove dipinse tutti i quadri a noi pervenuti. Una mostra a San Gallo, Antonio Liga Bue il Van Gogh Svizzero, al museo in Lager House fino all'8 settembre, cerca di risolvere l'enigma. Documenti d'archivio e opere d'arte mostrano chiaramente le influenze di città e paesaggi svizzeri nei dipinti di Liga Bue. Antonio Liga Bue, diversamente da ciò che si pensa, ha iniziato a dipingere proprio qui a San Gallo. Nei suoi dipinti i soggetti principali sono spesso animali e bestie feroci, che ritroviamo anche in alcuni quadri dei suoi compagni, come questo qui. Proprio gli animali, però, tema forte nell'arte di Liga Bue, sono metafora che il pittore usa per esprimere il proprio disagio e dunque ben evidenziano quella che forse è la verità. Liga Bue fu un'anima sradicata, che non appartenne mai veramente ad alcun paese. Ma Antonio Liga Bue è il Van Gogh svizzero o italiano? Lui in realtà si sentiva straniero in entrambi i posti. Sentiva diverso, senza uno scopo, senza una direzione e senza una meta. Chi lo avrebbe mai detto che sarebbe diventato così famoso? Era questo l'ultimo servizio del nostro notiziario. Vi ricordo subito dopo le previsioni del tempo, la pubblicità, l'appuntamento con Nova Stadio TG, con Michele Lanati, quindi Nova Stadio Sprint, fino alle 20.30, poi la volta del nostro settimanale dei motori con Gigi Vignando, ovviamente, griglia di partenza. Grazie per averci seguito, a tutti voi l'augurio di una serena serata. Arrivederci.